Nessuno, danno completo, danno lì e nessuno Online La stai creando tu o la Creolio? Il Natto è impostato e l'ho aperto Quindi potresti non essere in grado di partecipare ad alcune partite Unisciti ad un amico Ok, la Creolio è la partita Facile, va bene? Però più minuti che arrivo Vabbè Eccoci live Il tempo di sistemare le opzioni Perché è la prima volta che lancio il gioco E il tempo che sa sa Va a fishare e torna Non vado a fishare Ah, scusa Non è che fishiamo sempre qua Ah, ti posso anche invitare Vita amico Finito il cassetto Opzioni di coppia, solo amici Focamico lo metto? No, dai Prendiamo come un classico Degli anni 80 Che non esisteva Focamico Ma come si vede bene a 7,20? Ma graficamente com'è questo gioco? Non è GTA 5 Però non fa schifo come 7,9 Mi sono invitato Mi devo drogare Che ti stai prendendo Che ti stai prendendo La sigaretta Ora te lo facciamo sapere Fischio Perché è veramente la prima volta Che lo lanciamo Infatti già che ci sono No, non c'è bisogno che mi imposti le cose Perché poi lo caricherò sul canale Così da Twitch Così cominciamo la serie Anzi da ora possiamo dire Che incominciamo la serie Di Sainterov Cazzeggio Time Che poi posterò anche sul canale Youtube Cioè chi siamo criminali? Noi siamo tutto Fra Oh espelli giocatore Il giocatore coppia ha messo in pausa Allora via partita in cooperazione Ok Oggi ti sei unito Non l'ho capito È messo in pausa Mi sono unito No Ok allora la devo solo lanciare La lancio? Mh Vado? Vai Non sappiamo com'è La prima volta che lo lanciamo Cazzeggio Ci voleva Ivan Che sa Ha bibbia Ma che è una favola Eh I cavalieri Eh ma non riesco a leggere Fra C'era una volta Perché senza no furono Stretti a segnarsi su un uomo Non riesco a leggere Un uomo facile tale Da mettere in cinocchio Satana Ma cos'è questa Da farse lo dare In sopra cinti Persino a Dio Ma chi l'ha scritta Questa roba? Che E' il tuo compleanno Quindi Che vedei Lemmo di turno Ma io gli darei un paio di colpi a Kinsey Abbiamo prato Due cilindri Stenghi a questa Due paio di colpi Anche qualcosa Ma te c'è Sto al tre Eccoletto Eh Oh là Guarda là dietro Che tette È tradizione Ah perché In un futuro Dovrebbero giocare Alla tavola Ouija Come funziona? Scusa una domanda E il spirito Del board Ravirà l'ansposta Come? Se qualcuno Pugge la cosa A dovevano Scusa 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 Metti la mano sul cursore Metti la mano sul cursore Ah 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 Guarda quando non è Vediamo Scusa 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 Metti la mano Chi va Tammare il Presidente Mi sa che tu fai film Nufra No no Sei tu la femmina Eh no perché Quando abbiamo fatto la coppia c'era il maschio sopra Perché si muove da solo? Vedi che non si deve giocare con la tavola La guida Qui c'era il maschio sopra E' un gioco Vabbè E' un gioco Trascissimo Questo Fischio Quindi c'è il trash che esce da tutti i pori Guarda quello Quello con la cravatta azzurina E mo Faticamente dobbiamo salvare a quello O siamo quello Secondo te Siamo questo Ah un giapponese figo E' la tettona E' la tettona Secondo me dobbiamo scegliere il personaggio Sai E' il mio compleanno quindi vengo anch'io Vabbè E' la tettona Uè la tettona Hell True to its word The spirit board opened up another portal And sent Johnny and Kinsey Screaming into hell Johnny e Kinsey Con la coagliaccia E' Johnny e Kinsey E' la tettona non è venuta allora Forse non c'entravo No Uuu Ma gli finisci addosso Ah che Oh fra non mi toccare Che io se sono fidanzato Perché come GTA Dove sono le macchine in questo paese? Eh perché questo qua Secondo me è un Come si dice Non un minigioco E' un Una parte di quel gioco Sapii? Comunque ruba un'auto Uffa vedi che si trova la femmina Allora Con le X si salta Col quadrato Non faccio niente Col cerchio Il menu delle armi Triangolo non fa niente R1 niente L1 Se tieni premuto L1 Corre Tu ba un'auto Ok Ah si Ok Si tieni premuto L1 E' buttati con la X Guarda Va bene Prendilo fra Prendi l'auto Ma chi è questo? Ma non lo so Siamo all'inferno Che ammazzi la gente Oh mi sparo Ehi stai sparando addosso Ok Ma stai ballando Fermo la macchina Non lo so Prendi sia esperienza Sai Fermo la macchina Scusi lei Ok Uffa sali dai Guido io Ah con L1 Il triangolo rubavamo la macchina Dove dobbiamo andare? Non penso che questo sia un problema Ah è vita quella Si dici che è la vita Ah quella rossa è la vita Ma io so dove devo andare No no Accegli la mappa con il touch quasi La moto azzù Oh ci sparano Eh ma mi serve che fai la mappa Fermi il touch passer Che non so dove devo andare No no Vabbè Tu mi hai detto Fermi il touch Vabbè Eh fai la mappa Perché non so dove devo andare Capi? Solo che io sto morendo Comunque per guidare sta macchina Fra però Eh Eh me che prendiamo il taxi Qui La rotti i coglioni Sì 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 Non lo so io sto andando a Boo Ma c'è sulla mappa Ti ha segnato il cosa Non lo vedo Dimmi destra sinistra Allora vai indietro Vai indietro Vai indietro Oh polizia Siamo all'inferno Ok vai Sinistra Ok Che ma dobbiamo cambiare macchina Fa cagare questo Quale è la visuale Sinistra Ok Sinistra Va bene Eh ma sinistra Eh sinistra Ah ma no per la strada Allora dev'and Oh ma che cazzo Oh chi è questo Prendilo prendilo Scendi scendi No questo mi inverte sto pezzo Sorry pal Fammi guidare Che vedo la mappa io Fai l1 Praticamente Tieni premuto Cioè Tieni premuto E leone E premuti Non posso guidare io Non ne ho idea Perché sono il maschio Forse Sì perché sono il maschio Io non so Però se c'è Dalla mappa Mi deve coprire Sa Coprimi un attimo Ah ok Qualche ora mi dice Dove deve andare Coprimo fra perché non c'ho vita Ma perché quello Mi sei rotta la ruota Fra Facciamo prima a piedi Mi sa Però No è lontano Eh ma non riesco a guidare E ti faccio Ti faccio fare una cosa Ma prendiamo la macchina buona Eh ti faccio fare una cosa Allora Guarda quello! Guarda quello che è figo! Oh, prendiamolo! Vai, vai, vai! Si è fermato, si è fermato! Questo ci passa addosso, in su. Sparagli! Mi sa che è la polizia. Ok, è morto, vai. Guida tu, guida tu. Mi gioco! Vai, Ufra, vai al punto, dai! Spreda c'è per torre. Ah, fino a i detti poi ci siamo. Oh, this is hell. Siamo arrivati? Eh, devi buttare. No, no, no! Guarda quello! Minchia, senti come suona? Sì, sì! Oh! Ma che è che hai spavolato l'idea? Guardalo! Marsi fulmini? Non ne ho idea, però. Sì, ma non tiene la strada, stavolta. Eh, tutte le macchine non tengono la strada. Fan cagare le macchine di sto gioco. Vai, vai, vai. Sì, ma che fastidio che dai, non suonare più. Siamo arrivati? C'è l'ambulanza. Ok. Ah, vieni qua, dobbiamo entrare qua dentro. C'è l'ambulanza. Vieni qua, non? Ah, vuole il Il Presidente era in... No, col diavolo non si fanno mai Ah, per questo Abbiamo appena devastato una strada C'è un po' 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 Un po' C'è 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 un po' Io se mi metti i pugni Si Se mi metti i pugni Ci ho i coltelli E basta ah oh fra mi sa che con r3 fai le prese dovrebbe essere una presa forse sai dove dobbiamo andare dai non perdiamo tempo dai in menù degli artani ah c'è di... ah ok ah c'è super sprint volo ah sono abilità mi faccio volo dai manchi io tieni premuto x per caricare i salti e aumentare l'altezza e la lunghezza va bene ok facciamo anche sprint facciamo anche sprint super sprint no mi ha dato i pugnali mi ha dato a me a lei l'ha fatta diventare fortissima nelle arti marziali e a me mi dà i pugnali no? ok correr è passiva vero? certo ah no ok uh che c'è successo? vediamo uh vai mette le aree vai oh 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 ah che figo ah ok allora praticamente tu ti riprimuto x poi con l1 poi con l1 fai lo sprint infuocato e poi voli va guarda che figo minchia se vola adesso dobbiamo andare soltanto in alto ah puoi saltare nel muro fra se premi sempre x nel muro no 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 verso di me devi venire pirlotto sei sempre attaccato al muro e premi x perfetto adesso dobbiamo arrivare là ah eh ma se non tieni premuto x come salti pirlotto no ah devi tenere premuto r l1 no no non lo so che vuoi fare io sto tenendo premuto l1 r1 ok ce l'ho fatta ah l1 r1 dai che ce la fai dai che ce la fai perfetto dai c'è di picchiata verso la prossima isola ok con il quadrato tieni premuto l1 tieni premuto l1 poi tieni premuto quadrato e ti butto in picchiata per mira l'ail isola e tieni premuto quadrato ok vabbè cambiare vabbè voli tieni premuto l1 poi dice che con l puoi andare dove vuoi tu vabbè no ci deve reprire staspera no occhio perché va troppo veloce quando vola no ho perso l'esistenza non ce lo faccio volare eh sono morto io diciamo che l'ho sotto ma l'ho so volata la cosa no 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 ok basta che quando stai per cadere lasci e poi premuto l1 r1 volare un'altra volta sì ma per poco adesso per arrivare nell'altra isola sbatti le ale aumentare la slange di reazione in questa quando premi una volta x quando sono in volo per sbattere le ale perfetto stai vedendo per rimanere ancora sì sì che mi sembra ok perfetto dove è che stai tu sto cadendo non stai Allora, c'è tempo di prendere la ruota di trening, la ultima leccia. Viene che la faccia, dai! No! Premi sempre X! Dai Sax! No! Premi sempre X! Dove sei? Ah ok! Ma dove come si è femmina? Guarda! Adesso dobbiamo arrivare... La... Ma in che senso fischio? Da quando abbiamo iniziato a streammare? O quante ore oggi abbiamo fatto? Occhio al fuoco eh! Vedete, io premo sempre X, non mi scende giù. Ho fatto una cosa. Vabbè, te le dico tutte e due. Oggi saranno tipo... Da... Oggi pomeriggio che streamiamo... E abbiamo aperto tutto... Guarda la presa! Minchia! Comunque tre giorni che abbiamo iniziato a fare streaming. Tre, quattro giorni. Che abbiamo aperto il canale e abbiamo iniziato a fare streaming su Twitch. Vedi che ci sono un sacco di cose da fare. Abbiamo tutte cose secondarie comunque. Pensa che noi andremo direttamente al punto, no? Credo cantante questo. Ok. Voglio fare quella presa con i coltelli, vediamo. Ma puoi correre più veloce delle auto. Ma infatti, ma costabilità che cacchio ti fa appendere l'auto? Buono, ma... Ma queste le abbiamo già sbloccate, giusto? Ma no, abbiamo cinque cose nuove, Fra. Costano dieci punti. Ah, io c'ho zero punti. Vabbè, non le possiamo mettere. Zero punti disponibili. Abbiamo un bordello di incarichi. Allora, fischio. È da quattro giorni che facciamo le live su Twitch. Sì, ok. Eh, Fra, scelgo tu gli incarichi, dai. Prima le donne. Abbiamo 51 incarichi. Cosa vuoi fare? Alleanza, attività, diversivi, poteri arcani, armi, nemici. Varie. Vai, partiamo con la prima. Ultimamente. Il potere evocazione. Carica. Per data il potere aura, ottieni il potere esplosione. Cosa vuoi... Ma qua, io c'ho alleanze prima. Sì. E poi c'è carica l'aureola. Eh, carica l'aureola, vai. E poi dopo ti da... Eh, ti da traguardi. Ottieni il potere evocazione. Ottieni il potere evocazione. Vai, vai. Eh, ok. Ok, dai, mica è lontanissimo. Vabbè. Aspetta, eh. Vai, 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 vai. Vabbè. Adesso ho quasi arrivato, eh. Com'era il quadrato per andare veloce? No, il quadrato è per la picchiata. No, non voglio cadere. Non voglio morire. Ah, non si muoche. Ah, ok, fischio. Bello adesso. Mi ricordo bene, si salta con questo. Poi con le... Ok, io sono arrivato. Ok. Ah, mi posso teletrasportare direttamente? Sì, basta che io non accetta la missione. Mi sa che fa danno, eh. Siamo forzati! Cazzo stiloso. No, non lo so, ma quella fedata gliel'avrei dato anche io. Guardalo, 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 guardalo! È carino! Proteggi la nave, dai. Ok, vai. Do sta? Vieni qua. Vieni qua. Sono tipo scarafaggi, che ne so. Demono niente. Eh, vabbè io li scapazza il mio. Io li sciolto. Sì, ne sei aiutati, ha petato. Sono finiti? Ah, no, qua. Ah, qua ce n'è uno. Ma che cazzo fanno? Non lo so! Ah, la vogliono distruggere, tipo che gli fanno i buchi. Sì. Oh. Non avevo troppo vado così veloce, che se sbatto volo dalla nave. Ah, ma qua ce n'ho degli oggetti, qua. Apri il forziere. Uh, il martellazzo! Martello divino! Martello divino! That is a freakishly large hammer. Oh. Proteggi la nave, barbanese. Tu ti occupi di quel lato, no? Allora, con L2 fai l'attacco rapido e con R2 quello caricato. Ok. Ma con R1 l'ho mattata. L2. Ah, ok. L2, R2. Ok, ok. Ho incontro questi per servire come mia squadra. Non c'è nessuno dal mio lato. Ok. Ma dove è figo sto martello? Visi che ce lo lascia. Uh, lato tuo, sopra. Vieni a stai. Vediamo se li prendono anche da qua. Ok. Schiaccia, schiaccia. Alla desti. Sì. Quando mi esce premi i triangoli? Eh, per rimuovere non ho capito cosa però. Ah, il marchio che mi... Ah, ok. I marchi che mettiamo a terra col martello può essere... Sì. Eh, la musica è carina però. È rilassante. Però se mi permetti eh, se le missioni sono... se le mini missioni sono così però... Perde un po' di colpi il giochino eh. Ah, ma quindi Barba Nera non è un cattivo, c'è un nostro alleato. Ma la promessa di una fortuna immaginabile ha fatto lui essere ancora più bolder. Un accordo si è riuscita. Blackbeard avrebbe avuto informazioni sui target strategici in exchange per una parte del profitto. Johnny, che era interessato nel muro, non nel pieno, ha deciso. Perfetto. Quindi abbiamo preso la ricchezza di Barba Nera in sintesi. I soldi. Guarda la. Mi sta penetrando qualche cosa? Eh, a me sa che c'è del martello, sai? Allora, ora puoi dare vita... Allora, ora puoi dare vita... ...a entità oscure che obbediscono. Ah, i demonietti. Evoca i servitori infernali. Fa passare velocemente all'inferno. La freccetta su. Evoca i servitori infernali. Quasi martello divino da un qualsiasi distributore automatico delle svinifere. Andiamo. Scusa un attimo. Parcani. Evocazioni. Elementi. Ah, ce l'abbiamo. Puoi passare velocemente all'evocazione. Ok, premi due volte la freccetta sopra. Eh, ma non mi ha fatto. Manca a me. Premi triangolo che ci fa fare il tutorial dell'evocazione. Vai. Conferma avvio incarico con Shaco. Deve fare l'avvio fra... Vai. Allora, vai. Premere uno per evocare il demonietto. Ah, ok. Ok. Poi freccetta su. Ok. E poi lascio. Perfetto. Ok. Premi sempre R1. Premi R1 e poi lascialo. Andati a carini. Sono blu però. Ok, tieni premuto R1 per attivare un reticolo di evocazione. Punta il reticolo sugli isolati. Ok. Ok. Ah, ok. Per evocarli lontani. Va bene. Eh, ma sono pizzi così, nichi nichi. Guarda la. Si va bene. Si può dire che è stato tipo bombe a ricerca, dai. Un tipo. Un tipo. Un tipo. Un tipo. Un tipo. Un tipo. Tutto qua? Cioè c'ha teletrasportato in un altro mondo? Vabbè. ma la prossima missione o andiamo a quella che ci dice lui di reclutare shakespeare a calci che infame ma che non scompare se lo prende a casa va bene basta perché sono stato fai mongoloid ti ricordo che siamo in live smettila ti fa vedere che sei mongoloide pure la nostra macchina perché ci vuoi andare con la macchina da andiamoci volando allora è lì che mi permette pensano lancia glielo guarda come si attacca la gamba di sì cosa dove sei dove sei che devo fare il puntaio l'addosso a uno di sti cosi che c'era dalla politica non è la polizia quella l'ha infatti fra io sto morendo andiamo perché è meglio andiamo a prendere a shakespeare ma come si andava perché le resistenze a la barra bianca e la resistenza se scende non vuole più fra oppure serve troppo in alto a questo punto basta che teni premuto l1 fra è più veloce della macchina ci bisogna manco che voli sinceramente però quando ci sono stipulati ma si vediamo che queste cose possono fare recluta shakespeare glifo nelle vicinanze non ne ho idea di cos'è non ne ho idea però sta a shakespeare comunque stanno sparando ma che la discoteca shakespeare io mi fesce un shakespeare non sto morendo però e vedere tutte le poppati questo è un attimo la richardia anchissima è un attimo che sia sicuro ma per bloccato la la nitda non, perché sa solle da un attimo che si vive un attimo che se guarda è stato un'altra cosa è stato un'altra cosa è stato un'altra cosa è stato un'altra cosa che dovevo fare secondo te però suonò che avevano un fio con coraggio e nobiliità traiti incommoni nelle fiere della tradizione M***e fai le presse picchia le con le R2 e le R2 eh eh tutti lì stessi guarda la no ma è troppo violento quelle prese tu le vedi le prese che faccio? stagio di senso ma in tutte queste che dobbiamo fare? ah i cicchini la sopra dobbiamo ammazzare questi strobs eh ma fiuggono forse gli dobbiamo lanciare i gol no ok aspetta gli dobbiamo lanciare forse l'omino va eh l'omino gli devi lanciare no ha paura picchialo picchialo no è scappato vabbè vedi che si è buggato male Shakespeare eh si è buggato malissimo vabbè fammi vendere la pistola insomma io c'ho il mitragliatore vabbè 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 niente vabbè ok c'è c'è cino che è che sto caso? sui mostri di DOOM e adesso X-3 come era quel gioco? shadow of warior? una cosa del genere si che mi fa là? madonna frà! quelle shakes che... è un po' un bello del tuo gioco no, non lo so dici no, sarà un po' lunghina, però è facile, non è vero niente ah, Shakespeare è scesa all'inverno perchè ha venduto l'anima per il successo potrebbe anche essere non è vero non è vero perché invece il diavolo o il mutandone scheletrico ma è brutto Shakespeare Shakespeare e i suoi seguenti delle tragedie si prendono rote in l'entertainment district biding il loro tempo per la rivoluzione e così Shakespeare ha chiamato il Deus et Machina che potere ci dà Shakespeare? che potere ci dà Shakespeare? stiamo pagliando sciatendo ora puoi sbattere il piede per terra per eseguire una predata arcana premi d'oltre per camminare scontri non è brutto forse mi sa che è vecchio per questo è strano come gioco però è carino e divertente da giocarci ci sono due cose carine però è facile ecco ok diversivo vendetta trovi e uccidi Dex più che più volte devi pagare quello che ha fatto ai Sainte di Steelworld la attiviamo vabbè la attiviamo vai forse facciamo così forse un po' più difficili vai dai sbattiamo il tuo piede dai preme uno per usare la pedata minchia oh mio dio vabbè e perchè c'ha queste cose che sono carine queste stronzate la pedata e il volo sono belle aiutare aiutare la puoi fare pure mentre il salto si si va si si va e lo prendi vabbè vabbè sparagli vai facciamo prima no non lo puoi rompere lo scuro e come lo prendi con la pedata di Nari no vedi che lo puoi prendere no vedi che gli si leva lo scuro gli puoi sparare figo l'ha perdato come lo faceva a pensare che cadevi in acqua cioè nel fuoco e morivi rego da Vlad non prendono l'ascensore oh vabbè il Dracula bisogna prendere il fonte Dracula va aspetta un'altra volta un'altra volta un'altra volta è arrivata stai morendo? si ma non vola più saldicappata e se non c'hai se non c'hai la stamina ma che vero amore ma è piena eh troppo in alto sono andato eh non volava vabbè sta arrivando ah vabbè comunque prendi se ti butti nella lava prendi lo devo fare quasi gratis poi della lava guarda a me eh l'hai provata a fare la la pedata QUUT contro la gente normale ok sai che manca poco a me se tutto va bene che hai scoperto no niente mi sono buttato dai che sto quasi arrivando ma è lontanissimo comunque Vlad allora e ho rubato una moto e c'è quello dietro di me vabbè erano in due come GTA perché sono quasi arrivato ok sono arrivato credo che c'era brutta gente quindi alla moto si guida dai vieni dai che mi ammazzano accetta e ho accettato di falla vabbè che c'era brutta gente vabbè che c'era brutta gente mi ha fatto stare riuscate arriva arriva vabbè che c'è tanta l'ha fatta accettata? no! il volo era questo, non mi sembra che sia questo guardate che vieni tu! ma no che volo che ha fatto quello? ma non è che ci deve andare sopra il tetto, può essere vai addosso non capisco non capisco dobbiamo andare sopra non capisco esce qualcosa qua sopra? non capisco ma è l'ultimo un tesoro non c'è nessuno percorso non c'è nessuno percorso non c'è nessuno percorso non c'è nessuno per me si ma cosa dobbiamo fare? recluta blood eh! recluta blood ce l'hai tu! dove devi andare perché a me mi scomparla ok adesso me l'ha ridata arrivo eh! è tutto quello che hai? vivo ok dai oh ma non capisco che cosa dobbiamo fare non me la fa fare non vorrei che sia buggata oh è oh guarda eh li puoi afferrare e usare come scudo si ma... aspetta ora me la leggo la missione aspetta oh abbiamo la mitraglietta si ma è meglio fare questo allora missioni com'era? incarichi oppure il fucilare cecchino conquista la stima dei quattro missione rimuovi traguardo e mi dice là ma non... no... hello mx lord saluta mx ma mi sa che sei buggata o sei buggata o dobbiamo uccidere questi qua eh ho capito niente basta questo filipango ma che è il cecchino hai? si che vuol dire che è niger? posso unirmi? eeeh mi sembra che la coppa è solo a due eh mmmm I no speak English cosa ti ha scritto? si poteva unire ma perchè non è da bene impazzare questi cosi? ma tu dici ma sono infiniti questi cosi mai penso che sono infiniti invece perchè sto sotto raga la mia missione è che è inutile questa mi sa recluta le gemelle otteni il potere esplosione vai sto qua vicino questo è spigord mi sei arrivata le gemelle no mi era caduto un palo intero vai va arrivato, guardate che belle gemelle no ma mi sa che si è buggato fra ma brutalmente pure si è buggato brutalmente non ci credo si si è buggato in gioco vabbè vabbè a questo punto la chiudiamo qua si è buggato il gioco va bene per oggi le live sono finite e ci volete seguire domani pomeriggio verso le 4-5 se tutto va bene grazie per averci seguito e good night buonanotte 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 Grazie a tutti.